Non ne dispiace un po' quando chiude un cinema? Dispiace sempre quando chiude un cinema. Nel Mendevise 8 è successo, il cinema teatro ha avuto un epilogo abbastanza originoso e decadente, ma è sempre peccato perché sono comunque dei luoghi di cultura e quando la cultura è costretta a chiudere perché mancano i soldi vuol dire che c'è qualcosa che è andato storto e che c'è un impoverimento della società. D'altra parte bisogna anche prendere atto che ci sono anche nella cinematografia delle nuove tendenze, aprire queste sale molto grandi, con schermi sempre più grandi, con tecnologie per far vivere di più gli effetti speciali che inevitabilmente caratterizzano sempre più pellicole, quindi è ovvio che certe sale più piccole se non riescono a caratterizzarsi, a avere un loro pubblico di nicchia, come succede a Lugano e altre sale, rischiano di scomparire. Questo è peccato, un po' come nelle librerie o in altri luoghi di cultura che sono un po' vittima della tendenza a globalizzare e standardizzare tutto.